Bentornati e dicevamo news di Mercedes e in questo prossimo servizio Marco Cerela ci racconta tutte le novità della nuova Mercedes-Benz classe C Station Wagon. Sentiamolo. La famiglia della classe C Mercedes-Benz si arricchisce del nuovo modello Station Wagon. La Station Wagon ha un design lineare e allo stesso tempo istintivamente sportivo. Vanta una tecnica innovativa, è versatile e ha una capacità di carico maggiore rispetto al modello precedente. Gli interni di gran classe interpretano il lusso in chiave moderna e con stile. Qualità che permettono alla Station Wagon di consolidare la fama di vettura lifestyle, versatile e straordinariamente pratica. Inoltre non solo offre il massimo livello di sicurezza grazie a molti nuovi sistemi di assistenza alla guida, ma definisce anche il record di efficienza nel suo segmento grazie all'utilizzo di materiali leggeri, all'eccellente aerodinamica e a nuovi motori parking e i consumi. Debuttano a bordo delle Station Wagon anche i servizi Mercedes Connected Me che permettono di collegarsi alla vettura in remoto ovunque ci si trovi e, ad esempio, di richiamare online il livello di carburante del serbatoio. La nuova classe C Station Wagon abbina un design deciso e dinamico ed equipaggiamenti importanti ad un'eccellente versatilità e praticità. Con la sua poli-elettricità è in grado di soddisfare le esigenze più disparate. Spaziosa, elegante e sportiva è perfetta per accompagnare le persone più attive e moderne a fare shopping, sport o in vacanza e sotto ogni aspetto è ideale per le famiglie. La nuova Station Wagon della classe C è nettamente cresciuta. Il passo si è allungato di 80 mm rispetto al modello precedente, facendo aumentare la vettura di 96 mm in lunghezza e di 40 mm in larghezza. Il vantaggio si traduce in 45 mm di spazio in più per le gambe dei passeggeri posteriori. Anche la larghezza dell'abitacolo e lo spazio all'altezza della testa sono maggiori rispetto al modello precedente e la crescita riguarda anche il vano bagagli. Sono aumentate anche la versatilità e di conseguenza la funzionalità. Il divano posteriore, ad esempio, è ribaltabile in rapporto 40-20-40, anziché in rapporto 60-40 come nel modello precedente. Alcuni dettagli pratici rendono ancora più versatile e agevole l'utilizzo del grande vano di carico, che può essere così adattato alle più diverse soluzioni di trasporto. Lo sbloccaggio elettrico dagli schienali posteriori, mediante la pressione di un pulsante, permette di ottenere, ribaltando i singoli schienali, un vano di carico piatto e di dimensioni maggiori. Grazie a soluzioni innovative, la scocca della classe C, Station Wagon, ha un peso inferiore e con un'eccellente rigidità, può vantare un comportamento di guida straordinario, massimo comfort acustico e vibrazionale, ed elevata sicurezza in caso di impatto. Con una percentuale di alluminio del 49% e 65 kg di peso complessivo in meno, la Station Wagon è campionessa di leggerezza nel suo segmento. I motori a benzina e diesel, con funzione Eco Start & Stop, potenti ed efficienti, soddisfano la norma Euro 6 e assicurano prestazioni sportive e gran divertimento al volante. Rispetto al modello precedente, possono consumare il 20% di carburante in meno. I modelli diesel della nuova classe C sono equivaggiati con un 4 cilindri perfezionato o con un nuovo 4 cilindri di piccola cilindrata. Essendo modelli Blu-Tec, dispongono tutti della tecnologia SCR Selective Catalytic Reduction. Questi motori coprono la fascia compresa tra i 116 CV e i 204 CV. In aggiunta, Mercedes-Benz offre un motore diesel combinato con un modulo ibrido. Il modello C300 Blu-Tec Hybrid, con motore diesel a 4 cilindri e un motore elettrico compatto, eroga 150 più 20 cavalli, 204 più 27 cavalli. E fa registrare, nonostante l'elevata potenza, un consumo di soli 3,8 litri di gasolio nel ciclo combinato, corrispondente a 99 grammi di CO2. Inizialmente saranno disponibili per la nuova classe C3 motori a benzina Blu-Direct a 4 cilindri e un motore a benzina Blu-Direct a 6 cilindri, con un range di potenza compreso tra i 156 e i 333 CV. Seguirà il 4 cilindri C350 Hybrid con tecnologia Hybrid Plus. Seguirà il 4 cilindri C350 Hybrid. Seguirà il 4 cilindri C350 Hybrid.